Nome? Valeria. Cognome? Rusca. Età? 35. Città Natale? Crema. Lavoro? Capobagna. Classico o freestyle? Classico. Perché? Perché non so fare freestyle. Nome del locale? Salino. Cosa ti piace del tuo lavoro? Il contatto con la gente e anche i colleghi, abbiamo uno spirito in più di noi. Hobby? Ballare e sport in generale. E il nome del tuo cocktail absolute? Lady Violet. Perché dovresti vincere tu? Perché è un cocktail molto fresco, ma ha un colore invernale, si può bere in qualsiasi momento della giornata. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Votatemi. Fai un saluto. Ciao.